Quattordicesima edizione del Festival della Critica Sincera e Costruttiva nella tradizione aquilana di Sant'Agnese, più nota come Pianeta Maldicenza, festival organizzato da varie congreghe agnesine dell'Aquila con il coordinamento della Confraternita dei Devoti di Sant'Agnese. L'iniziativa che gode del patrocinio del Comune si propone di rinnovare la tradizione tipica del capoluogo abruzzese della Maldicenza, intesa però non come basso pettegolezzo o insulto, ma come sana e sincera critica costruttiva, come affermano i promotori. Si parte venerdì 11 gennaio con il programma ufficiale di una manifestazione in realtà già partita l'8 dicembre con la coinvolgente Tombolata Agnesina, l'unica al mondo con 99 numeri, il numero simbolo dell'Aquila. Come da tradizione, la giornata clou della manifestazione sarà quella dedicata al concorso dell'arte critica che vedrà premiare sabato 19 gennaio la Confraternita vincitrice con la consigna del Palio di Sant'Agnese. Al centro dell'edizione 2019 ci sarà il Carnevale, con la seconda edizione della sfilata dei Carri Allegorici organizzata dall'Assessorato alla Cultura per il 24 febbraio. È una identità di questa città che parte dal 700, quindi una ragione pure ce l'avrà e che intendiamo sempre più consolidare e rilanciare. Quest'anno con l'identità del Carnevale, vogliamo fare il Carnevale all'Aquila in reazione nell'anno del decennale visto che nel 1703 fu compresso giustamente per tutte le vittime di quel terremoto, fu compresso il Carnevale all'Aquila. Quest'anno cerchiamo di rilanciarlo e di rilanciarlo quasi in un atteggiamento antisfiga per una reazione che vuole essere del popolo aquilano. Questo sarà uno degli elementi cardini con un grande convegno, maldicenza e Carnevale che hanno dei grandi punti in comune. Il resto è il programma solido con tutto il presidio del dialetto, la commedia dei non professionisti, la commedia di Villani e gruppo Villani predatti e camponeschi e ovviamente l'Agnesino d'oro nel giorno del 19 con la festa asburgica fuori dal teatro Renzo Piano. Quest'anno avrà la partecipazione anche di associazioni e enti del territorio di grande professionalità così come l'Accademia delle Belle Arti e anche le varie proloco che già appunto hanno dei famosi carnevali nelle loro frazioni come appunto la proloco di Cesa Proba o quella di Pianola o quella di Rocca di Mezzo con i Carri del Narciso. Grazie. 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 Grazie.